E' tornata a colpire la banda della marmotta che nelle ultime settimane sta prendendo d'assalto gli sportelli automatici degli istituti di credito in alcuni comuni della provincia di Foggia. L'ultimo episodio si è verificato la notte scorsa a Orsara di Puglia, dove è stato fatto esplodere con un ordigno artigianale il banco MatTM della filiale della Biper al Civico 21 di Corso della Vittoria. Il potente boato ha svegliato intorno alle 4 i residenti del centro del piccolo comune foggiano. Una volta fatto saltare in aria lo sportello, attraverso un metodo ben collaudato, conosciuto come tecnica della marmotta, i banditi si sono allontanati con il denaro contenuto all'interno, ancora in corso di quantificazione. Ingenti i danni all'ATM, mentre non si sono registrati feriti. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri che stanno visionando i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Lo sportello dell'istituto di credito era già stato preso di mira nel dicembre 2018 e fatto esplodere con la medesima tecnica. L'episodio di ieri notte fa il paio con l'assalto avvenuto due settimane fa in un altro comune del Foggiano, a Rignano Garganico, dove venne messo a segno un altro furto con esplosivo alla filiale della Banca di Credito Cooperativo.